Ultimo ma non meno importante, visto che siete tanto attenti a quelli che sono anche i minimi aspetti o gli aspetti delle minoranze o meglio ancora di quelle che sono, come avete appena detto, le volontà dei cittadini allora cosa andiamo a dire ai cittadini di San Marcello e Pistoiese o di Piteglio e perché a questo punto non diamo anche a loro questa possibilità di essere inseriti in questo comune unico come è stato da loro espresso e in questo caso non abbiamo voluto proseguire questo tipo di considerazione che si è appena da voi fatta. Pertanto si perdisce quello che è stato anticipato a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle il voto contrario a questo tipo di atteggiamento che continua a essere comunque da voi per te. Grazie.